Partiamo alla scoperta dell'esposizione in Europa, una a Berlino, Nora Nelson Mandela, narra la vita del leader sudafricano anti-apartheid. Morto nel 2013 da presidente della potenza ormai ex-segregazionista, Mandela passò 27 anni in carcere, l'esposizione al bikini fino al 15 marzo a Berlino. Omaggi romani a Villa Borghese per l'orafo del XVI secolo, Luigi Valadier, vengono esposte le sue opere di bronzo e di argento con i suoi schizzi originali. L'esposizione è Luigi Valadier, splendore nel XVIII secolo romano alla Galleria Borghese fino al 2 febbraio 2020. Infine un tocco nordico in questo tour europeo con la retrospettiva alla Tate Modern di Londra, dedicata all'artista danese-islandese Olafur Eliasson. È noto per le sue sculture e le colossali composizioni di elementi primari. Olafur Eliasson in Real Life alla Tate Modern a Londra fino al 5 gennaio.